Sì, fuori! Puntano i generatori per disattivare il nostro laser. Tutto deve accadere. La centrale! Gaccia della resistenza attaccano le nostre forze. Eliminatevi! Il stadio calcetato! Chi è? Tuore che la perdite! Il stadio neutralizzato! Via libera, l'ha inseminato. Quello è andato. Ho distrutto quasi tutti i generatori. Il nostro laser deve restare operativo. Usate per l'aiuto. Peccato, ci mancherà. Versaglio neutralità. La resistenza ha i secondi contatti. Eliminate quell'antibunker una volta per tutte. Pilota a basso. Un passo per il miglior operente. Sapete chi sono. Ti è andata male, amico? Se i nostri trasporti riescono a fuggire, quelle truppe attaccheranno la resistenza. Fornite supporto. Volete morire? I nostri trasporti truppe stanno scappando. Ottima mira. Ottima mira. Ottima mira. alla sera. Il miglior operente. Troppo. Ho perso. Lasporti truppe in uscita dall'hangar. Teneteli al sicuro. Troppo. Complimenti. Adesso l'avete messa sul personale. Trasporti truppe partiti. Dovete proteggerti. Ben fatto. I nostri trasporti sono riusciti a fugire. Guardate i nostri trasporti. Truppe al sicuro. Questo vi rallenterà. Sono solo affari. Adesso avete la mia attenzione. Trasporti truppe al sicuro. Brutto colpo per la resistenza. Trasporti del primo ordine fuggiti. La resistenza ne risentirà. L'amico sta per commettere un grave sbaglio. I nostri trasporti truppe stanno scappando. Bel tentativo. Ma sono ancora qui. L'oscurità ti avvolge. Grazie. Monete a morire, eh? Hanno distrutto quasi tutti i nostri trasporti. E provino a seguirmi adesso. Abbiamo perso i trasporti. La resistenza tornerà a concentrarsi sul destroyer. La resistenza attacca quello scudo deflettore. Se dovesse cedere, il ponte di comando resterebbe scoperto. Attaccano il deflettore centrale. Proteggetelo. Gancio bombe sismiche. Un altro fuori dai piedi. Richiedo supporto immediato. Sparano. La resa non è contemplata. Schiacciateli tutti. Proteggete quello scudo deflettore, o tutto andrà perduto. Mi hanno colpito. Sapete chi sono. Allarme. Scudi in avaria. Difendete il ponte di comando o la battaglia sarà perduta. Caccia nemici avvistati. Distruggeteli prima che raggiungere il loro bersaglio. Bersaglio eliminato. I caccia nemici stanno passando. Intercettateli. Levato di turno. La nave Recher, per ora. Abbiamo riattivato gli scudi. Continuate a difendere. Sparano al deflettore frontale. Fermate. Fottori sulle fiamme. Bel tentativo. Ma sono ancora qui. Venere il mio maestro. Cannoni a ioni attivati. Quel colpo è andato a segno. Scudi disattivati. Il ponte di comando è vulnerabile. Basterebbe qualche colpo vagante per far esplodere la nave. La loro morte è prossima. Ottima mira. Ben fatto. Continuate ad abbatterli. Spazzateli via. Riorganizziamoci. Mi hanno colpito. Abbiamo di nuovo gli scudi. Proteggete i deflettori. Il deflettore posteriore è in pericolo. Proteggetelo. Un'altra vittoria per il primo ordine. Un'altra vittoria per il primo ordine. Era un'altra vittoria per il primo ordine. Per armi.